Agostino Perrone è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Siamo qui alla terza in via della conciliazione dinanzi alla sua attività di panificazione. Ecco, prima ancora di inoltrarci nel discorso politico, perché si candida, quali sono le ragioni che lo hanno spinto a voler ambire un seggio alla regione, cerchiamo proprio di conoscere Agostino Perrone nella sua vita imprenditoriale per quanto riguarda la sua attività imprenditoriale. Grazie. Io sono un imprenditore, come ha detto lei, nel settore della panificazione. Io dall'età di 20 anni sono diventato imprenditore perché è venuto a mancare nostro padre. Ho preso in mano la situazione e oggi mi trovo con circa 30 dipendenti e fornisco in tutta Italia. Quindi un'attività di famiglia che poi lei ovviamente ha ampliato. Come figlio maggiore ho preso io in mano e ho portato avanti un progetto di nostro padre. Ecco, visto che lei è un imprenditore, visto che purtroppo per varie ragioni Covid in testa si vive un momento un po' particolare, la crisi economica va a colpire innanzitutto gli imprenditori e poi a ruota i dipendenti. Come sta cercando lei, come ha cercato come imprenditore, di comunque andare avanti, di garantire la sicurezza ai propri dipendenti, cioè a fare comunque impresa nonostante il momento sia tutt'altro che felice? Beh, devo dire la verità, sul nostro settore noi non ci siamo fermati per niente, anche perché... Abbiamo lavorato anche di più, a me personalmente è dispiaciuto che altri settori sono stati chiusi e non sono stati riconosciuti come dovrebbero. Sì, poi c'è tutta quella situazione, la polemica anche riguardante il fatto che a mio modesto avviso nel sud non c'era quella necessità di chiudere come nel nord, perché non possiamo paragonare la situazione di Taranto e provincia che ha avuto fino appunto a, prima di quest'estate, 286 casi di covid, parlo di Taranto e provincia, beh non è giusto che Taranto, che l'area di Taranto abbia avuto la stessa sorte di Bergamo, c'è un abisso di situazione. Questo l'abbiamo anche discusso noi, diciamo, anche tra imprenditori, perché io sono collega a tanti settori, anche perché io faccio politica da 14 anni e sto vicino a tanti imprenditori che oggi non hanno più ossigeno, non sono stati, diciamo, riconosciuti almeno le cose più essenziali. Ecco, cosa significa fare impresa nell'area di Taranto, avere una trentina di dipendenti e quindi anche una responsabilità, perché parliamo di 30 famiglie, non è un'impresa piccola? Eh, questa è una cosa importante, io mi metto nei panni dei altri imprenditori che comunque sono stati, diciamo, non sono stati riconosciuti alla Cassa Integrazione e hanno supportato questi dipendenti a spese loro. Ecco, volendo conoscere un po' meglio Agostino Perrone, qualche aneddoto, qualche momento particolarmente bello, significativo della sua attività commerciale negli anni, qualche soddisfazione che lei come imprenditore e come uomo sente di aver così conquistato? Io l'unica cosa che ho, sento in base alla domanda che ha fatto, ritengo che la cosa più importante in un'azienda, il titolare deve stare insieme ai suoi dipendenti. L'attività è controllata, l'attività cresce, l'attività, diciamo, va avanti. Anche farsi... Sono un'imprenditore lavoratore, io faccio i turni di notte, faccio i turni di giorno. Si dice l'imprenditore operaio, no? L'imprenditore operaio, sono proprio io. Anche perché in questo modo il dipendente non sente il distacco, ma si sente partecipe di una realtà in cui lo stesso datore di lavoro sta sudando insieme a lui. No, io dico di più, in tutte le aziende, in tutte le strutture pubbliche, diciamo, di gestione, posso dire che la presenza del titolare, del responsabile, mette in condizione di, nei confronti di quelli che lavorano meno, di far girare il ciclo lavorativo. È controllata. E la stessa cosa io l'ho verificato anche, diciamo, facendo l'assessore dieci anni fa, stando essere presente, diciamo, la macchina cammina. Grazie a tutti.